grazie da velotti invece i lavori al vedete ai lavori al al mcdonald's ma chissà se siamo autorizzati a riprendere qua vedete lo spazio è poco sono chiusi ma qui è già più giustificabile buonasera benvenuti welcome back back to back e c'è cesare fradella o black devil down do down do down do down do down vedete che qualcuno c'è non tanti magari ma famosi a sembra ma c'è sono già le 22 11 però vedete che si profitta del non si resta vedete c'è il rider gli easy rider vedete forse chissà secondo me a casa si va anche oltre le 10 o no ma è una bella cosa è quella delle consegne una bella cosa delle consegne a domicilio buonasera buonanotte cari amici della notte della snorchers andiamo a vedere allora per illustriamo via c'è